La commissione consigliare dedicata al porto chiede di pensare alla creazione di un presidio del 118 fra i terminal delle varie aziende per ridurre i tempi di intervento in caso di infortunio sul lavoro. Sono già tanti purtroppo gli incidenti sul lavoro che si verificano nei vari stabilimenti portuali. Con la riqualificazione di tutta l'area e gli investimenti messi in campo dall'autorità portuale, l'attività lavorativa nelle varie industrie andrà inevitabilmente ad aumentare e quindi andranno ad aumentare i rischi di infortunio per i lavoratori. Oggi purtroppo non sempre il 118 riesce ad essere tempestivo nel prestare soccorso in caso di incidente. Le ambulanze dirette al porto partono all'altezza del pala di Andrè ma è troppo complessa la viabilità all'interno dell'area industriale senza indicazioni chiare e con i terminal difficilmente riconoscibili. Difficoltà si sono presentate anche in caso di intervento dell'elicottero. In questi siti neanche il GPS riesce sempre ad essere preciso. Molte volte alcuni dipendenti delle aziende sono soliti aspettare l'arrivo delle ambulanze all'esterno dei terminal lungo la viabilità principale per aiutare gli autisti ad individuare il complesso da raggiungere. Il coordinamento però non è semplice e può portare a risultati inonutili. Il tutto a spese purtroppo delle persone bisognose di cure. A peggiorare la situazione è poi anche il traffico di camino che può rappresentare un ostacolo per i mezzi di soccorso in determinate aree. L'esigenza di un presidio del 118 in area portuale è stata espressa dai lavoratori, dai sindacati e da un'esigenza sottolineata negli anni scorsi anche dalle stesse aziende. La questione d'altronde è monitorata da diversi anni. A presentare una mozione alla Commissione consigliare dedicata al Porto sono stati i Partiti Democratici e il Movimento 5 Stelle. La questione era stata sollevata in passato anche da lista per Ravenna. Maggioranza e opposizione si sono quindi ritrovate concordi nel presentare la richiesta ad Ausermania e autorità portuale di costituire una nuova stazione per le ambulanze.